Eh, Aurelion ci starebbe. Io Aurelion non l'ho quasi più giocato dopo il game colossale che ci ho fatto con 2000 stack, perché, cioè, come fai a fare una roba migliore di quella? Ho raggiunto il Nirvana. Quindi... Eccolo qua! Singed Astronauta. Tra l'altro questa skin è molto bella perché non si vede bene il fumo di Singed. È quasi come se fosse nascosto. È meno percettibile. Percepibile. E questa è una figata. Ragazzi, vi ricordo che comunque avete tempo 15 giorni. Finché c'è posto vi ricordo di iscrivervi al nuovo torneo di 100 giocatori. 100 persone si sfideranno in un'arena a sorpresa e soltanto uno di loro prevarrà. Si farà in una sola live e... il 28 ottobre, quindi punto esclamativo 100 per iscriversi. Ci sono tutti i dettagli su come funziona, requisiti, quando, bla bla bla. E ehm... ricordo che i posti sono limitati ai primi 100 che si iscrivono. Il torneo è ovviamente ideato e streammato da me. Please, give me a look when she's so cute. Beh, se lo chiedi così con tanta gentilezza, ci sta. Eh, dando per scontato che ce l'avevi tra l'altro. Allora ragazzi, di nuovo siamo contro una squadra molto, molto tankosa. Chogat, che scala in infinito anche lui sugli HP, quindi è abbanato Sion, ma è arrivato Chogat. E Rammus che è un po' un dito. Perché è un dito Rammus? Perché in early game mi viene a prendere facilmente, mentre io sto cercando di... di farmare, ovviamente. Lui è veloce con la Q, può arrivare subito e mi può uccidere. Quindi mi aspetto che magari morirò un po' più di volte durante la fase di lane in questa partita. Però, vediamo come va. Chogat, d'altro canto invece, early game, anche lui è... è tostarello, ma tanto di solito lo vogliamo ignorare. È tostarello se lo vogliamo affrontare. Se invece lui ci deve inseguire, fa fatica, perché ovviamente è un champion lento, ha delle spell lente. Adesso gli altri streamer si offendono perché non li inviti, ma questo torneo non è un torneo tra streamer, è un torneo per la community. Ovviamente il... mi piacerebbe fare un torneo anche per gli streamer, però ho anche quelli più avanti. Magari potremmo fare il torneo del troll per gli streamer, sì. Potremmo organizzare questa cosa qua, non ci ho mai pensato, potremmo farla. Un torneo dove gli streamer verranno trollati. Tutto il tempo. Ci sta, ci sta, ci sta. Lo possiamo fare. Ciao, pop, pop, buonasera. Il fatto che il torneo del troll, ragazzi, è un torneo ovviamente che... No, questo non lo prendiamo. È un torneo pensato per la community. Pensato per essere equilibrato dal suo punto di vista. No, no, non sto scherzando, è un torneo. Io. Perché prima un ragazzo mi ha chiesto che appunto voleva aiutarmi nell'organizzare i tornei tra streamer di LOL. Quindi parlando sempre di questa cosa che già avevamo parlato prima. Riflettendo, effettivamente il torneo del troll è un torneo che ho pensato per la community, perché è un torneo che ho pensato per essere bilanciato. Nella sua sbilanciatezza del troll. Perché ovviamente si viene trollati. E quindi è ovvio che è meno bilanciato in torneo dove non c'è nessuno che ti trolle intanto. Però, ascoltatemi bene. Io l'avevo dato per fare in modo che tutte le persone che partecipavano più o meno erano dello stesso elo. Se io vado a invitare streamer, cioè gli streamer variano tra bronzi, platino, smeraldo, master, challenger, quindi... Comunque, anche se c'è la componente del troll, potrebbe essere un po' sbilanciata. Ma vediamo. Ok, sono tutti là. C'è anche Chogat. Sì, c'è anche Chogat. Perfetto, ragazzi. Ottimo start. Huge. E Malphite è costretto a tippare in top. Allora, ovviamente lui adesso cos'è? Ma che cazzo dico? Sono morto. Scusa, mi ne vado. Ciao, ciao. No, non faccio più. No, 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 no. Ai, ai, ai. È stato smaitato questo carretto. Ha flashato Che scemo Bene bene ragazzi Oddio come perdere il flash Ciao Namfire Buonasera Ok ok No questa kill non posso lasciarmela perdere E invece giustiziato Intanto però Poppy ci ha fatto il punto interrogativo È abbastanza tossica È abbastanza tossica amici Quando la gente ti fa il punto interrogativo Io la reporto sempre e viene sempre bannata Fatelo anche voi mi raccomando Oppure sto mentendo Non lo saprete mai Ma quel che è certo è che stasera accenerò No non vado di lì tranquillo Grazie del pensiero È che glielo fottiamo questo Grazie mille Prendo io Prendo io eh No problema Un nemico è stato ucciso Oh cazzo Ok stavolta my bad Per poco però Per poco Scarpine velocissime Con queste mi sarei salvato Dai mi sono divertito a fare il bullo su Rammus E rubargli tutto il campo Ora però mi sa che mi sono preso la sua inimicizia E verrà a vendicarsi Vediamo se sarà così Allora Signor Chogat Basta rompere i coglioni agli altri Ok Questo mi sa che non riusciamo a uccidere No Non sono riuscito a premere il tasto Volevo almeno dematerializzarlo My head Vedete 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 Prima ha dato fastidio a Rammus E adesso lui è tornato già Ora mi odia Ora abbiamo un po' di AP Come vi avevo detto In questa lane Mi sarei aspettato di morire di più E infatti è così Rispetto a quella di prima Qua si muore molto di più Perché purtroppo Rammus è un po' un dito nel culo Ovviamente lui adesso sta arrivando a gankarci Molto più spesso Chogat Early game è difficile da affrontare Perché comunque ha molto sustain Grazie alle kill che può fare gratis sui minion Nessuno gli impedisce di farmare Perché ovviamente Io vado a foxare E ha tutta la wave che si schianta Giustamente lui può In qualunque momento La settare quei minion sotto torre Recuperando HP e mana E questa cosa per me è molto deleteria purtroppo Però 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 Farmeremo comunque ragazzi Bene Si riprende a farmare Attenzione Scusi Devo passare Ciao Un alleato è stato ucciso Ordina qua Oh 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 Ci prendiamo il carretto Un alleato è stato ucciso Rubiamo questa roba Probabilmente sta venendo qua Il tizio Si parte tutta la wave col carretto Anche Non molto furbo Da parte sua Olè E adesso ci prendiamo pure Questa bella roba Bello il pronostico Bravi ragazzi Attendiamo così Ovviamente Ora si può fare poco Lui starà tornando qui sicuro Però è indeciso Vedete Ho già il doppio del suo farm E questa cosa è buona Il record scorso è stato 800 di farm Ragazzi Non so se si riuscirà a fare delle cose del genere Soprattutto adesso che hanno nerfato Lo snowball Verso il late game Però proverò a dare il massimo comunque Finché vedo Rammus nella zona bot Io sto qui tranquillo C'è il carretto adesso Ora non c'è più Ovviamente smaterializzate le carrette Sia per farmarli più velocemente Sia per aumentare i miei danni Contro i carretti Così in late game Shotto i carretti Come se fossero dei minio normali Ok questa Ha fatto delle cose brutte Oh ok ok Ho preso più risorse possibili Ho preso il flash Quindi bene Peccato per la morte Però giustamente Abbiamo usato molto Povero contadino Sì Report Secondo me puoi provare a diventare un po' più forte col Sandokan Perché così almeno dopo mi dai una mano meglio Almeno i carretti vanno passati Vanno reclamati amici Io reclamo tutti i carretti con lo smaterializzatore Ora Cosa possiamo fare qua di bello Ciao ciao gatto E' un piacere fare fare con lei Io prendo i tuoi minion E tu non mi rompi il cazzo Che ne dici Vedete vedete Guarda quanti HP recupera sto stronzo E c'è morto Molto bene Molto bene Questa è una bella roba Peccato per la plate di prima che non sono riuscito a fare Ma va bene Tu rap Questa scriverà Tu Ah Facci la testa Tu Did you already rap me? You are 0-4 No io sono 1-4 in realtà Please don't rap me I will carry Ok Ok No Mi hanno ucciso di nuovo Oh Damn Ramus hates me so much Effettivamente mi continua a gankare Potrei dire il jungle deep Visto che Ramus è venuto 100 volte Cazzo guardate quanta resistenza magica si sono già fatte Questi due stronzi Ma comunque Ramus e Chogat sono pre-made Sempre top lane Un po' troppo più del normale Anche quando stavo recollando di nuovo Ehm Questa ci prendiamo Ci prendiamo l'ignite Bene Per un altro kill E poi hanno la stessa identica build Cioè sembra che si siano messi d'accordo Proprio non sa e quindi sbaglio E proprio non sa Cioè la strategia È normale che io muoia molto Sono Singed Sono a livello di Cioè sono un livello sopra del nemico Che è morto solo una volta Questo dovrebbe far spiegare molte cose Ancora Ramus Tranquilla Ci penso io Ecco qua Problema risolto L'hai visto poppy Ammazzo tutti Porca droga Faccio anche la prima torre ragazzi Di solito la prima torre non è utile farla per Per continuare il proxy Però E qui ci muoio Non posso far niente Che cazzo ci faceva L'ADC in top lane E anche il mid laner Ma porca puttana ragazzi Ma proprio si sono innamorati di me A me va bene Cioè nel senso Ok Prima torre fatta Abbiamo già l'oggetto mitico E stiamo andando per il Rabadon Loro ancora non hanno oggetto Sto andando già per il secondo item Nessuno ha ancora concluso il primo A parte Saia Ok Ciogat ha appena finito il suo Grande Alessandro Grazie mille dei dieci mesi Bentornato Dieci mesi Belli calchi Belli caldi e belli carichi Molto belli caldi Anzi in realtà Perché siamo già al decimo mese dell'anno E fa ancora un caldo bestia Che ne pensate ragazzi Presto a A Natale si mangerà il cocomero L'anguria al posto del panettone Dove giorni nel mio compleanno Risponde Tortellino Ah Allora hai ragione tu E' comunque buono anche il cocomero Assolutamente Troppo caldo Mi sembra solo ieri che Cugino iniziava L'estatona La maratona più estiva del mondo E' una lattura di palle Ok Fusione Detto la parola magica Fusione time Stanno arrivando troppe persone Quindi iniziamo a A cambiare le carte in tavola Guarda guardali 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 che scemi Vieni qui Tu stai incollato come un polipo Bravo 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 polipo Sono silenziato Porca troia Non posso attivare Ecco ora l'ho attivato Oh E tu stai qui con me mi sa Eh Sì bravo Questo gran cucciolone Oh ho usato una spell dell'Ara Ma Cicciuta Molto bene Molto bene Io What the fuck is that combo Ma quale combo Attenzione Muore Attenzione Muore anche lui Attenzione La fusione è stata completata Steel report Occhioni dolci Oh cazzo Non stavo scrivendo in chat Stavo facendo gli occhioni dolci Vabbè sono morto però Molto Molto bene Allora amici Abbiamo 900 gold Si possono fare tantissime cose Con 900 gold Come ad esempio Comprare un oggetto Che ti aumenta la movement speed Cosa Abbiamo due jungler Sì Signori Eh la void staff è il prossimo passo Sì Poi dopo faremo anche lo scettro Però prima la void staff E ora si farma la giungla amici Vai Chi cazzo ha lasciato la pink Noops Noops Allora adesso inizio a farmare la giungla Perché così ho sette item Dobbiamo pensare molto al late game Ok Quindi dobbiamo Farmare tantissime A posto a posto Ma se siamo due jungler Lei lo prende il Ma forse non lo prende lei però Cazzo Lei non prende il buff Quindi gliel'ho appena fottuto Ups Ai 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 Allora mi sa che Mi vorrà riportare ancora L'unico modo per avere sette item Esatto È questo No gattavano Irrotto i coglioni Ok Adesso facciamo una bella cosa Oh cazzo Minio non mi danno più gold Ops Vabbè Devo fare solo la jungle Per un po' A me non interessa Prendere l'oro dai minion Vai qui così Sia te che il campo State qua tutti e due Grazie Tutti e tre Va bene va bene va bene Mi va benissimo Basta che mi prendo il blu A posto Ora farmo anche voi Sono ancora full vita Tu muori A posto Ho farmato Un campo con due Champion in mezzo Vabbè Tutto normale ragazzi È Singed Tutto normale dal cugino Una live come tante Qua si trolla Doveri Uno dei migliori Troll picker Di sempre Ma non è che Pia E siamo a otto Devo continuare a farmare Campi di giungla Rammus smettila di fregarmeli Per favore eh Se no tocca ucciderti Non è molto felice Questo ramo Molto bene Molto bene Molto bene No Peccato l'ha preso lei Ma io ho sti p Che ce l'ho qui da un sacco Cazzo sbagliato Ma l'ho ucciso Quindi va bene Allora mi piglio questo Lascialo a me Bene Meno male Olè Siamo qui No Bravo il mio cioggi Bravo 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 Eh no cioggi Tu torni qui con me Eh sì sì Guarda ti Ti metto una bella Colla davanti Ecco qua ecco qua Fatto risolto Tu vattene al cazzo Fuori dalle palle Oh Iniziamo a farmare Campi di giungla Devo arrivare a 40 Siamo a 10 Patti eh Bene 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 Allora Recollo tu inizia ad andare in bot lane subito dopo il recall Perché io devo Tipare Sennò non uso il TP È un problema Aspetta volevo fare la voice tap Ok E qua ci prendiamo E qua ci prendiamo il ghost Tipo anzi vado top Vieni top Vieni top Perché là Pusha per noi Purtroppo Quindi cambio di Di programma Ora i minion sono tornati a darmi i soldi Come vedete Perché per chi non lo sapesse Dopo il minuto 20 I minion Anche se avete l'oggetto da jungle Vi danno soldi Per questo ve l'ho comprato così tardi Guardate quanto farmo 230 Siamo al minuto 21 Ok qui c'è una pink Se la vuoi togliere tu Ok Allora Iniziamo a usare sto smite Ma che fa? Cosa cazzo fa sta Lux di merda eh? Fammi fermare i miei campi di giungla Che cazzo vuole? E poi per ora Penso che la maggior parte Di averli presi a A Rammus in realtà Ok ok Mi prendo anche questi soldi Di sta torre E ormai mi avevi fatto una spell Quindi Considerato Non ti preoccupare Cioè Condividere È bello Anche perché Io arriverò full build Molto presto Abbiamo 23 stack Ragazzi Cioè io ho 23 E poppy 6 Tra po' finisco prima di loro La missione Della jungle Anche perché io sto rubando Il farm a tutti Cioè non solamente Prendendo quella della mia jungle Ma anche quella di Di Rammus Sto prendendo tutti i campi Di giungla del gioco Guardate Sono a 40 farm sopra Sono a 260 Al minuto 22 Ma che cazzo vuoi Ma devo chiedere palle Sono spawnati i campi Ma perché poppy Non farma i campi Io non sto capendo Cioè non è che Gli sto rubando io Eh proprio non li fa No guardate cosa ha preso Rammus L'oggetto Anti-mago Io farmo qualsiasi cosa Esiste No Iwangi Lo consiglio a te Perché non so nemmeno Che cazzo sia Quindi Sinceramente Non si accettano Cose da sconosciuti Attenzione Attenzione Aspetta Che drago è? Non posso neanche Prenderlo Fa schifo E' il drago Dei cessi E' il drago Degli Wang Gli Wangi Il drago Tuo Wangi Ok Prendo tutto Prendo tutto Prendo tutto Non esiste più nessun campo Poppy Mi dispiace Siamo a 15 No davvero Lo finisco prima del jungler L'oggetto da jungle Perché lei non li farma I campi Non so perché Come mai Non li sta farmando No veramente Non capisco No Sto capendo Perché non li farma Come mai Poppy Non farmi I campi Di jungler Ma come mi smita di merda Perché mi smita così male Questo è pazzo Vi ricordate quando lo smite Faceva un danno in base al vostro Rivello Ok È una challenge Mi dispiace Ormai Poppy Ormai Ok Qua sono stato un po' cattivo A rubarle i campi Però dai Sti cazzi Sta per ridere Ormai per il meme Tanto guarda qua Che bella carriata Le stiamo Guarda ti lascio la kill Eh niente L'ha presa al veleno Giuro che la volevo lasciare Però Te lo giuro Te lo giuro su quello che vuoi Sulle carriole Sui nonni Su tutto quanto Olè Molto bene Molto bene Molto bene Cazzarola Merna Merna Merda Aiuto Sono in pericolo I nemici Mi dispiace Eh io stavo facendo così per loro Perché cioè Vedete Io non sono in pericolo Mai Sono sempre gli altri A essere in pericolo I nemici saranno dicendo Ma che cazzo Cioè Rammus Guardate quanta Magic Resist Rammus esiste Cioè è un campione Che guadagna potenza Dall'armor E ha preso solo Magic Resist L'abbiamo costretto A cambiare rotta Proprio Ah ma poppy Sta smettando male Perché lagga di brutto Ah ecco perché non farma Però non sto capendo proprio perché non farmi i campi Guardate Guardate Rammus Un Un campo deve fare E gli aumenta l'item Ma non succederà Perché purtroppo C'è privazione Di Stronzi Privazione di campi E di compagni Rammus Non riesce a evolvere Il suo oggetto da giungla Sei campi E abbiamo evoluto L'oggetto da giungla Prima del nemico Prima dell'alleato Un casino ragazzi Ma che cazzo sta succedendo Questa è la cosa più pazza Che abbiamo mai visto Supererai anche il record Fatto con una sola Certo Io sopra vedo il futuro Ok ok Purtroppo non so se riesco a togliere Il campo a Rammus Visto che è di fianco al campo Praticamente Purtroppo non ce la faccio Però vabbè È stato comunque Molto divertente Vai vai C'ho get Mangia pure Mangia pure Bravo Nutrisciti Oh ma quanti soldi ho? Che cazzo sono Sti soldi? Sono dimenticato Che esiste il denaro Sorry Non succederà mai più Ma io che cazzo prendo? Cioè non mi serve niente Sono già fortissimo Ha! Il singh è più forte di sempre Lo voglio vedere Allora Ultimi due campi Allora Rammus purtroppo l'è voluto Non c'era niente da che potevamo fare A riguardo Però Noi volviamo il campo L'oggetto da giungla Prima Ecco l'abbiamo fatto adesso Prima del nostro jungler My smite Is ready guys I'm the Real jungler now Quindi ora flammeranno me Per non aver gankato Forza della natura ragazzi Sono immortale adesso In questo oggetto Vabbè Che dire insomma amici Prendiamoci Oh mia dai Ok Adesso È il momento di continuare Ragazzi ma quanto farm ho? 360 al minuto 28? Va bene Ok Non me ne ero accorto Che ho quasi 400 di farm Tutto a posto amici Tutto a posto Non vi preoccupate Ci penso io Sì My farm Il dio del farm Ora vorrei farmare La loro base Se è possibile Tututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut solo farmare nella vostra base è possibile grazie venite venite voglio solo farmare qua grazie no no non voglio non voglio problemi non voglio problemi lasciatemi solo farmare per favore mi sa che Miss Fortune muore ha toccato il veleno cazzo ok per fortuna non è morta per favore non voglio problemi ho detto stupidi perché vi fate del male scemotti io voglio solamente farmare lasciatemi farmare difendete dagli altri io sono innocuo come si dice innocuo in inglese ragazzi voglio far capire ai nemici che non devono devono fidarsi e non devono preoccuparsi di me io non creo problemi dove è Chogat? innocus non so mi sembra strano Rick armless come un alberato non l'hanno capito ho paura ancora per favore pace pace amore per favore pace amore per favore nessuno si fa male se non mi attaccate per piacere se no vi state danneggiando tutti amici no è morto Belcoz davanti ai miei occhi lui era un mio amico dall'infanzia per favore lasciami in pace voglio solo farmare per favore non faccio male a nessuno sto fermo sono fermo amici per favore non voglio farvi del male per piacere amici che palle che siete sono morti avete visto? why? non mi attaccate e vabbè se non mi avessero attaccato sarebbero stati ancora qui e vabbè purtroppo sono cose che decapitano e quando decapitano non c'è niente da fare sto pensando di prendermi il più spirito cosmico ovviamente potrebbe essere una bella scelta per avere più movimento e più speed ma anche questo non è male perché il concentrazione dell'orizzonte ci permette di fare molto più danno il problema è che noi poverini non vogliamo massacrarli abbiamo detto toccherà prendere il knight mi sa qui il bruciamo ancora di più un uomo ha chiesto la pace e tutti sono morti comunque ragazzi 100 farm in più rispetto al minuto in cui siamo 429 al minuto 33 questa è una roba bellissima il mio record è 800 ed è il record italiano però non so se riuscirò a batterlo vediamo era prima della durability patch non lo so in realtà cioè l'ill l'ill lol è un po' cambiato in questi anni quindi vediamo se riusciamo ancora ho fatto 800 al minuto 50 forse dovrei semplicemente farmare i campi di giungla perché quelli danno 4 a botta e magari insomma di più farmare la loro base sarebbe perfetto perché danno più minion però il problema è che ci sono loro che vogliono continuare a uccidermi mannaggia io proprio non capisco perché lo fanno va bene abbiamo preso tutto ciao ciao è più di mille zio credo in te proviamoci più di mille di farm guarda sta puttana mi ha appena rubato 4 di farm ragazzi però lì ci sono 5 gold sì sì il mio scorso record è stato 800 al minuto 50 ma guarda guarda sta puttana vuole rubarmi il farm cioè ha 91 lei ma impegnati zia invece di cercare di rubare chi fa se lo fa in modo onesto uffa va bene ti vengo ad aiutare però puoi non ti lamentare se ammazzo tutti ok boom boom amici devo salvare questo compagno che ha chiesto aiuto eccomi qua tutti morti ecco ti revo vabbè va ecco qua siete contenti che vi ho aiutati amici lo ti smito troviamolo troviamo no che palle a me dispiace ucciderli io voglio solo farmare nella loro base per piacere lasciatemi qui no ma perché devi rompermi il caso guarda guarda che si fa male si fa male ok allora cosa ho scritto ciao gatto nooo ciao gatto non dire queste cose si fa non è carino non è gentile davvero purtroppo se l'ascolto a parte il copyright quindi non non va bene però poi la sentiamo un attimo dopo voglio capire che canzone è non la conosco conosco Britney Spear ma non mi ricordo quella godo riportalo eh sì purtroppo Chogat verrà bannato per incitamento al suicidio e questa cosa non è molto carina di conseguenza addios Chogat il tuo account verrà bannato se sei nabo sono solo cazzi tuoi non puoi sfogare la tua frustrazione augurando agli altri di ammazzarsi quindi affanculo Chogat lo reportiamo ragazzi speriamo che venga bannato certe cose non vanno bene c'è un limite a tutto si tratta pur sempre di un gioco cerca di divertirti se non ti diverti fai FF o migliora cazzo prendersela con gli altri no puttana ragazzi voglio solo stare in pace va bene allora facciamo il drago c'erano 40 persone su di noi e noi tranquilli lì va bene ma come fa Sing ad essere così forti amici io non lo so proprio non capisco all magical resistance oh yes siamo tutti magici sia noi che loro ecco qua quarto drago ora abbiamo ancora più sustain pensavate che io stessi in difficoltà ora con questo recuperiamo 350 HP nell'arco di 4 secondi quindi sono quasi 100 HP al secondo hop là ecco fatto tra l'altro tutti su di te tutti su di te non stando che non prendi danno sì 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 erano tutti su di me intanto non stavo prendendo danno questo potrebbe essere il farm definitivo comunque cioè questa partita sta andando molto bene ho preso un attimo il TP faccio uno scherzone va fottiamo tutto ok vai in base è meglio oppure aspettami qua arrivo a metà land vieni vieni porca troia mi fai andare scusa potresti incontrare una Kali per venire in qua vabbè la tolgo andiamo parliamo scherzetto completato grazie ripeto l'emozione l'ho rimossa l'ho rimossa ok ok 530 di farm ragazzi molto bene andiamo avanti olè ovviamente ricordo che noi abbiamo 7 item perché oltre agli oggetti completi abbiamo anche preso l'oggetto da giungla nonostante fossi top lane in questo modo abbiamo ancora di più ma che cosa vedo ah buonasera oddio Singed ma lo sto amando sì sì ragazzi Singed il contadino ben arrivati no sono morto peccato i nemici hanno iniziato a fare danno hanno iniziato a scalare meno male almeno adesso sarà un po' più difficile secondo voi il mio team riesce a perdere in 50 secondi che non ci sono i nemici non hanno minion perché li ho appena tolti tutti quindi no non penso vediamo vediamo allora chi è che mi ha fatto più danno qua a chi dobbiamo stare attenti a Miss Fortune che mi ha preso tutta la ulti eh Yumi on alt item io team on alt item esatto quindi invece che averne 6 oggetti ho l'oggetto da giungla quindi 7 più Yumi 8 più adesso abbiamo anche il buff dell'anima del drago quindi 9 oggetti praticamente molto bene molto bene molto bene 20 secondi e torniamo ragazzi adesso purtroppo dovrò iniziare a uccidere le persone non si può più giocare qua cazzo Chogat ha distrutto la torre facilmente quant'è il record attuale? il record attuale è sempre mio ed è 800 836 se non erro di farm con Singed attenzione perché in realtà ho fatto un record ancora più alto ma con Aurelion Sol ho fatto 1200 ok ci sono tutti i video su YouTube dei record c'è anche il record con Veigar che ho fatto 4000 AP oh oh questo lo prendo io no come non l'ho preso io non aveva 1200 cazzo che sfiga va bene va bene peccato abbiamo perso 4 di farm lì muore per sicurezza lo rimuoviamo forzatamente il Baron e Dez win ma non vogliamo vincere noi vogliamo la gloria eterna ragazzi che vale di più di qualsiasi bene materiale amici oh ma qui c'è anche una pink che vale un gold è un minion e vabbè è la presa di Umi io c'ero in line tu c'eri sì demon ok 575 c'eri in live quando ho fatto cosa Aurelion o Singed il record ho fatto anche il record di appunto stack su Aurelion che Aurelion ho fatto 2200 stack facevo la ulti e il buco nero con lei che erano grandi quanto la mappa ok sono morti tutti i nostri compagni dobbiamo andare a doitare vieni vieni corri 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 non c'è nessuno lì mescola mescola cugino la base è la base ho visto vieni 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 purtroppo devo rocollare mannaggia 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 subito 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 veloce veloce ma che cazzo fai allora ci siamo e prendiamo anche questo molto bene molto bene ragazzi vi ricordo anche che c'è il nuovo torneo che ho inventato per 100 giocatori che si sfideranno in un'arena a sorpresa un torneo però che si fa su un altro videogioco che si chiama Minecraft che immagino tutti voi conoscerete se c'è qualcuno che ci gioca non abbiate paura partecipate al torneo perché sarà una figata e sarà il primo di tanti e voi potrete dire io ci sono stato fin dal primo chissà magari vincerete qualcosa di divertente gli hanno appena rubato la farma in mida da poppy ha chiesto per favore fammi invadere i soldi c'è ancora 3 item ragazzi non ha voluto proprio farmare niente quella non so perché io ho quasi 10.000 di oro appunto ciò che qualcun'altro tp ciò che l'ha appena usato no nessun altro ce l'ha però rischiamo comunque ragazzi siamo molto a rischio infatti prefererei prendere il baron per avere il recall sicuro eh qui mi tocca fare un po' una spedizione punitiva su misporto vediamo ok forse no capiamo e basta quanto sono impegnati quanto sono impegnati l'impegno io qua mentre i miei compagni fanno il baron quindi arrivederci possiamo fare anche pentabolendo ma purtroppo no ok sto facendo troppo male a tutti via andiamocene via andiamocene via ma non ucciderla ti prego non volevo uccidere Miss Fortune perché adesso chi cazzo difende capisci merda quella tua culla ha uccisa mi sa che è finito il game ai 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 eh sì abbiamo vinto forse codice eri un po' stanco adesso dopo due game non lo so questo è durato tanto però vabbè purtroppo è andata così baron what the fuck you doing eh niente ragazzi peccato Miss Fortune magari prendevano magari uccideva i minimi vabbè niente ragazzi peccato non siamo riusciti ad arrivare ad 800 però comunque sia cazzo 700 farm è stato buono 700 farm è stato buono eh lì mi sono accorto che stavano uccidendo troppe persone quindi ho detto no basta non accendo più infatti sono scappato da Miss Fortune proprio per quello vabbè 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 ragazzi direi direi niente male niente male niente male è stata una bella sorpresa comunque una bella sorpresa ragazzi direi che non ci si può lamentare di questo di questo Singed molto 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 bene 85 mila danni merda ne ha fatti tanti Xayah non sembrava eh ma lei stava facendo il culo a tutti pure lei eppure non aveva moltissimi oggetti non mi è sembrata così impattante 705 oro al minuto per un totale di 14.4 minion al minuto molto bene niente male hai fatto tu mid bot jungle top poi si ho fatto praticamente tutto io si volevo dividere i draghi ragazzi però purtroppo alla fine mi serviva prendere il drago l'oceano e quindi ho provato a prendere questo subito avevamo 10.000 di oro si poi con 10.000 di oro puoi fare beneficenza ti devo spegnere il pc che devo modificare la postazione pc ci vediamo va bene ciao ecco beh 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 molto bene ragazzi molto bene direi che è stata una bella partita entusiasmante piena di colpi di scena a colpi di scemo proprio adesso io direi che è il momento di salutarci con lol basta passiamo a minecraft che andiamo avanti sul mondo e non solo ricordo a tutti quanti che appunto ci sarà la possibilità di iscriversi al torneo di minecraft che verrà svolto il 28 ottobre il mio primissimo torneo dove ci saranno 100 persone che si sfideranno in una arena a caso a sorpresa dovrete fare delle cose ci saranno delle regole speciali e l'ultimo che rimane in piedi vince che rimane in piedi